Amici terrestri tranquilli, l'umanità è salva. Sulla terra sono appena arrivati gli Omnibots. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di RobotsGT. Eccoci qua per l'uscita puntuale del primo del trio Omnibots, edito dalla casa terze parti X-Transbot. Non so se tutti ricordano la storia degli Omnibots, chi fossero e quello che facevano. Allora, quando gli autoroboti giunsero sulla terra, una volta riattivati dall'arca, e una volta capito che non erano gli unici sopravvissuti al viaggio interstellare, ma che sulla terra erano giunti anche gli acerri nemici, i Decepticon, allora lanciarono un SOS di richiesta di aiuto su Cybertron e risposero a questo appello di aiuto appunto il trio degli Omnibots. I componenti del trio erano Overdrive, Ferrari 512BB, che è l'elemento in esame quest'oggi, poi le prossime uscite, ossia Camshaft, che era una Mazda RX-7, e Downshift, che era una Toyota Supra. Tutti e tre interpretavano tre modelli iconici di supercar degli anni Ottanta, rimasti nel cuore di qualsiasi appassionato sia di robot, ma soprattutto di automobili. Se non li avete presenti o magari non li ricordate, potrebbe dipendere dal fatto che non comparvero mai nel cartone animato, comparvero nel fumetto, e a livello di giocattolo invece non era possibile acquistarli nella rete di distribuzione ufficiale di giocattoli, ma si potevano acquistare solamente online, almeno negli USA. Non so se questa vendita era attiva anche in Europa e in Italia. Per ottenerli bisognava mandare un contributo economico e sei bollini prove di acquisto che erano presenti nelle confezioni degli altri Transformers che si acquistavano normalmente. La peculiarità di questi Omnibots era una trasformazione intermedia tra quella robot e quella alternativa, nello specifico queste vetture potevano trasformarsi in delle sorte di veicoli armati, un po' ricordano le trasformazioni che effettuavano i Musk nel momento in cui ingaggiavano la battaglia e si trasformavano questi veicoli cacciando fuori armi, ali e quant'altro per sfruttare al meglio le loro peculiarità. A livello di giocattolo furono costruiti insieme agli altri Diagloni, ma non furono mai impiegati prima fino a questo momento all'interno della linea di giocattoli Transformers. Passiamo ad esaminare più nel dettaglio questo nuovo prodotto X-Transbot. Allora, nell'immediato quello che ci colpisce è senz'altro la familiarità con il box, una scatola molto contenuta e compatta, come potete vedere. È una cosa che non dispiace mai quando una scatola non va a rubare parecchio spazio in archivio. La confezione presenta questa bella illustrazione frontale che raffigura il nostro fioravanti. È così che X-Transbot ha reso omaggio a questa Ferrari 512 BB con un nome italiano e la cosa è assicurata e vi assicuro che è azzeccatissima. Nella parte posteriore troviamo lo schema con le caratteristiche di forza, intelligenza, potenza, velocità e quant'altro del personaggio, cosa che in realtà sul giocattolo degli anni Ottanta, che come vi ho detto veniva acquistato per corrispondenza, non erano presenti e la cosa fu giustificata con il fatto che erano troppo nuovi questi nuovi combattenti giunti da Cybertron in fretta e in furia per riuscire a misurare le loro doti di potenza, di fuoco, velocità e tutte le belle cose. Per cui sulla confezione di questi personaggi degli anni Ottanta non erano presenti queste tabelle a cui siamo abituati. È quasi un elemento distintivo di un Transformers. Passiamo adesso ad aprire la confezione. Troviamo i sigilli classici X-Transbot. Fa a cavolino il blister. Blister contenuto. Dimensioni contenute, ma fa il suo dovere. Troviamo il consueto librecino delle istruzioni, anch'esso dimensioni compatte, spessore discreto, illustrato con foto parzialmente a colori. prosegue il manuale in bianco e nero con le parti dei movimenti da effettuare per le trasformazioni evidenziate. Molto intuitivo e sarà senz'altro utile per effettuare la trasformazione. Anzi, le trasformazioni tenendo anche in considerazione la trasformazione intermedia di veicolo aereo, se così possiamo definirlo, caratteristico di questo fioravanti. Poi abbiamo una bella tessera plastificata con tutte le caratteristiche del personaggio. troviamo una bustina con ben tre pistoline correlativi effetti di sparo e poi, finalmente, passiamo ad aprire il personaggio principale della recensione che è questa splendida Ferrari degli anni Ottanta da non confondere con la 308 degli istanti. Questo è tutt'altro modello. Vi devo dire che il peso non è da sottovalutare. Si sente una volta afferrato singolarmente si capisce che il peso non è attribuibile ad altri accessori ammennicoli ma è veramente frutto del peso del del robottino principale. Allora, la macchina essenzialmente sembra fatta molto bene è molto curata ha questo aspetto lucido brillantinato questa parte rossa non è sicuramente verniciata ma è una lavorazione di fusione in pasta il suo effetto lo fa la parte invece sottostante perché la fiancata ha questo motivo bicolore invece è totalmente verniciato in questo grigio scuro metallizzato canna di fucile e come era nella realtà fa il giro perimetralmente di tutte le fiancate i paraurti troviamo questi bei cerchi a 5 razze cromati pneumatici in gomma le ruote rollano tranquillamente specchietti orientabili abbiamo tutti i fanalini verniciati gli scarichi con questo bordino cromato qualche dettaglio anche qui in questa griglia posteriore con finiture cromate anteriormente la griglia superiore del cofano è cromata e anche questa frontale sul paraurti tutti i fanalini al posto giusto qui abbiamo una plastica trasparente le gemme laterali anche sono in arancione addirittura c'è il blocchetto della chiave per l'apertura i fari tramite questo pulsante inferiore possono essere estratti non è una novità assoluta ma è una soluzione già adottata in tutti i modelli precedenti simili e anche nel Lamborghini le vetrature sono scure ma sono sono trasparenti le porte sono entrambe apribili e si può vedere il dettaglio interno dell'abitacolo c'è stato un accenno di cura qui troviamo il volantino che tra l'altro si piega quindi diciamo che è regolabile come pure il sedile che ha una leggera escursione quindi un accenno diciamo di regolazione e c'è c'è poi anche un accenno di cruscotto la parte meno curata appare sensibilmente quella inferiore dove comunque troviamo altre parti verniciate che sono un dettaglio poi che ritroviamo sulle gambe del robot abbiamo a vista la testa che non è una cosa proprio un lavoro di vino non c'è neanche la possibilità di ruotarla di nucca e questo spazio vuoto che in realtà ha un suo perché perché qui all'interno possiamo alloggiare le pistole nel momento in cui non vengono impugnate ma le possiamo riporre qui in questi fori vi faccio vedere come è dotato di ben tre pistoline due delle uguali hanno l'impugnatura che può essere richiusa in questa maniera vanno a trovare posto qui in questo alloggiamento una e due non vi potete sbagliare perché una è doppia e ha due fori l'altra invece è singola e va dall'altra parte questo dettaglio va a migliorare sensibilmente la parte inferiore colmando questo vuoto questo buco che uno non è che si mette a vedere la parte inferiore però tanto per parlare di pulizia di linea così è senz'altro meglio e più compatta l'altra pistoletta invece tramite questo alloggiamento qui dietro può essere montata sul tetto della vettura vediamo appunto questa trasformazione in velivolo allora in che cosa consisteva allora dobbiamo aprire questo pannellino sul tetto ruotiamo queste prese d'aria poi sulla parte inferiore estraiamo le ali con questo e andiamo a bloccare con questa levetta il sistema non è propriamente intuitivo se vi si dovesse bloccare non forzatelo ma trovate la giusta posizione perché se la posizione è giusta ruota liberamente altrimenti rischiate di romperlo essendo nuovo ovviamente non è molto fluido però con un po' di pazienza si fa tutto e non si fanno danni ecco qua le ali e poi frontalmente apriamo prima il cofano e poi ruotiamo quest'altro pannello ed ecco qua che appaiono questa coppia di cannoni gemellati frontali con la loro potenza di fuoco devastante possiamo sfruttare anche questi effetti di sparo che fanno la loro figura anche l'altra l'altro blaster sul tetto la possiamo collocare e lo stesso montiamo il suo effetto di sparo e da un aspetto molto aggressivo e dinamico a questa configurazione volante di fioravanti eccolo qua in volo ho attrezzato questo supporto diciamo di emergenza in quanto nella confezione purtroppo non è presente uno stand dovrebbe uscire in futuro come optional ma nel frattempo ho recuperato questo che fa aggreggiamente la sua figura e si può apprezzare come in volo faccia questa ferrari faccia anche un'ottima impressione sembra quasi più un veicolo dei mask che un transformers probabilmente starete pensando tra voi e voi che tutto sommato questa non è una grandissima novità questa degli omnibots di questa modalità diciamo alternativa di quella che non è una vera e propria tripla trasformazione ma è un qualche cosa che tutto sommato è familiare un qualche cosa che abbiamo già visto ed è proprio quello che secondo me abbiamo già visto con trackers eccoli qua uno di fronte all'altro da una parte abbiamo tracks e dall'altra fioravanti vedete come vedete come siano praticamente equivalenti le caratteristiche di uno rispetto all'altro e quindi questa modalità di veicolo aereo non è una novità assoluta con gli omnibots ma l'avevamo già assaggiata con il buon vecchio tracks entrambi sono delle supercar degli anni 80 l'uno è una corvette stingray mentre l'altro è una più affascinante e blasonata ferrari 512 bb in tracks troviamo anche lo stand che tra l'altro se non sbaglio calza a pennello anche su fioravanti se avete dubbi sulla scala dell'X-Transbot in questione vi posso garantire che mi sembra assolutamente in scala masterpiece eccolo confrontato faccia a faccia con tracks quindi come potete vedere come dimensioni sono perfettamente equivalenti fanno la stessa lunghezza perché in effetti X-Transbot a volte anzi molto spesso ha il vizietto di fare i modelli in scala leggermente più piccola come ad esempio ha fatto anche per gli stand che sono leggermente più piccoli della scala masterpiece e poi in effetti in alt mod vanno a stonare rispetto al resto dei veicoli di fianco l'uno con l'altro in questo caso invece vi assicuro che sono perfettamente in scala non abbiamo parlato dei materiali qua avendoli praticamente l'uno di fronte all'altro la differenza soprattutto di peso è notevole mentre per articolazioni il discorso è a sé qui qui abbiamo un tagara e qui abbiamo un terze parti per quanto riguarda il peso è veramente è veramente notevole la differenza diamo una rapida pesata allora il trax è totalmente in plastica ed ha un peso di soli 122 grammi mentre dall'altra parte fioravanti 266 grammi e la differenza la fa veramente la quantità di metallo che per le dimensioni del soggetto non è affatto male segnalo una leggera differenza di tonalità di rosso tra le parti della carrozzeria del tetto le fiancate e anche qui di tutto quanto il cofano rispetto agli sportelli e a questo giro parabrezza sicuramente perché il parabrezza e le porte sono verniciate sulla plastica trasparente e quindi non sono andati a copertura oppure hanno hanno operato una verniciatura differente in due catene distinte ed ecco il risultato una cosa che poteva essere sicuramente evitata con un po' di attenzione in più praticamente secondo me questo rosso in pasta non è lo stesso rosso di queste parti verniciate dello sportello e del giro parabrezza potevano potevano senz'altro ottimizzare questo piccolo difetto passiamo adesso a vedere la trasformazione in robot allora per prima cosa dobbiamo aprire le ali in questa maniera dopo apriamo questi pannellini dobbiamo aprire le portiere apriamo i parafanghi chiudiamo questo piccolo pannellino ora possiamo sganciare gli avambracci dal loro tab sganciamo la cappotta ruotiamo le ruote anteriori di 90 gradi verso l'interno uno e due passiamo alla parte inferiore apriamo per prima cosa i pannellini degli scarichi li ruotiamo in questa maniera di 90 gradi ora dobbiamo dividere le due semi metà e ora a questo punto cercando di allontanarli il più possibile aiutandoci con la mobilità di questi pannellini posteriori possiamo ruotare la parte inferiore della gamba in questa maniera stessa cosa dall'altro lato andiamo a rifinire quelle che saranno poi la parte inferiore delle gambe allora qui dietro la ruota in quest'angolo c'è un piccolo pannellino da ruotare ecco qua in questa maniera perché andrà poi a bloccare la parte del ginocchio ora possiamo aprire questo piccolo pannellino che va a coprire il buco sulla parte anteriore del piede andiamo a compattare la parte posteriore della gamba apriamo questo pannellino chiudiamo questo subito sopra questo ora chiudiamo la parte posteriore più grande e chiudiamo questo piccolo pannellino laterale che va a colmare anche l'ultimo piccolo buco ora spieghiamo il piede lo ruotiamo in posizione e questa che è la base di appoggio del piede questa più scura la dobbiamo ruotare verso la parte posteriore vedete il piede è definito abbastanza pulito tranne questo buco qui stessa cosa dall'altro lato con i piedi siamo a posto adesso passiamo alla parte ripassiamo alla parte superiore quindi qua sul busto dobbiamo aprire questi due pannellini laterali li dobbiamo ruotare in modo da poter estrarre questi due pannellini grigi laterali ora li ruotiamo indietro dove non possono darci fastidio e dobbiamo aprire quest'altro pannello grigio che poi è la base d'appoggio del petto del robot passiamo a ruotare la testa bisogna 80 gradi ruotiamo il pannellino rosso a questo punto la testa è in posizione eccola qua ora dobbiamo compattare il busto questi tab grigi sul pannellino si debbono inserire in questa parte inferiore del muso della vettura portiamo in posizione le braccia spieghiamo il gomito regliniamo il sedile nella parte posteriore del gomito chiudiamo la portiera ruotiamo in questa maniera l'ala e la chiudiamo possiamo estrarre la mano tirandola leggermente verso fuori e la ruotiamo di 90 gradi verso l'interno la apriamo stessa cosa dall'altra parte ecco qua il nostro fioravanti trasformato il robot il nostro fioravanti diciamo che fa la sua fa la sua figura si vedono perfettamente tutte le parti verniciate non ci sono parti diciamo lasciate lì a caso anche queste queste cosce sembrano essere in metallo e sono interamente verniciate in questo splendido grigio metallizzato che è lo stesso poi anche dell'addome e degli avambracci sembra senz'altro come linea più vocato al giocattolo vintage che a una tune accuracy anteriormente quindi veramente pochi appunti da fare è estremamente posabile e mobile le articolazioni sono le solide ormai diciamo dotazione standard per questa fascia di prodotto ha un doppio snodo qui al gomito stessa cosa anche alle ginocchia non ci sono però cricchetti anche le spalle sono estremamente mobili possono ruotare essere essere chiuse anche anteriormente e posteriormente in questo modo oltre che a ruotare liberamente in tutte le direzioni non ci sono articolazioni sofisticate da nessuna parte e questo forse è l'unico vero grande difetto di questo modello ossia delle articolazioni molto semplici che lavorano per interferenza quelle che mi preoccupano maggiormente sono queste qua sulle ginocchia perché con un paio di trasformazioni sembrano già aver perso parte della loro forza quindi bisognerà agire qui sulle viti a croce per ripristinare una forza di attrito più più mordente qua addirittura sentiamo questo stridolio nelle anche c'è la possibilità di ruotare anche in questa direzione le cosce come pure gli avambracci ruotano tranquillamente piccolo appunto lo faccio sulle mani perché come avete visto bisogna estrarle dall'avambraccio però non perdono questo movimento non riescono a bloccarsi si reggono praticamente solamente con il pollice che fa da ringrosso altrimenti rientrerebbero all'interno le mani sono articolate non sono bellissime questo c'è da sottolinearlo il pollice e l'indice sono indipendenti mentre le altre tre dita si muovono insieme comunque la presa sulle armi è eccezionale come articolazioni abbiamo più o meno detto tutto il grande difetto soprattutto in campo articolazioni per quel poco che posso averlo provato finora risiede nel piede questo piede secondo me non dà una grande stabilità ha i soliti movimenti ma soprattutto il peso nella parte posteriore viene affidato a questa a questo zoccolo diciamo a questa parte posteriore del piede che non riesce a sopportare mal digerisce il peso notevole del modello e basta superare un certo angolo verso il posteriore che si richiude e va a finire a terra quindi lo dovete tenere con il busto proteso in avanti per evitare il peggio e questo sinceramente non è un bel vedere per un modello di questa fascia secondo me è un difetto abbastanza grave e potrebbe essere sufficiente per bocciare il modello se vogliamo per il resto il modello la sua figura in vetrina la farà sicuramente ma questa cosa dei piedi mi dà proprio fastidio facciamo un rapido raffronto di dimensioni con un Optimus Prime Magi Square queste sono le proporzioni tra i due soggetti vediamo anche come il primo sia votato essenzialmente alla Tune Accuracy quindi abbia queste pannellature molto più ampie e lisce e anche più squadrate e prive di dettagli mentre il nostro fioravanti protagonista di questa recensione appare molto più orientato orientato verso le linee del giocattolo è molto più ricco di dettagli da tutte le parti e in più spiccano le superfici interamente verniciate e un po' di Grazie. 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 Potrebbe anche starci. Frontalmente veramente bello e niente da dire. In conclusione il modello non è affatto male. Diciamo che dà il meglio di sé soprattutto in alt mode. infatti la vettura è veramente fatta bene e ha tutti i dettagli proprio del modello in modalità robot qualche appunto purtroppo secondo me c'è se siete abituati a questo genere di prodotti sicuramente non sarà il peggior prodotto che potrete aver incontrato non è un fanstoys ovviamente però il suo lo fa veramente dignitosamente soprattutto se dà atto che c'è molto metallo quindi i materiali sono comunque ottimi e le superfici sono quasi totalmente verniciati quindi come dettaglio e come rifiniture assolutamente meritevole purtroppo qualche pecca c'è vedo un po' di macchinosità soprattutto nelle articolazioni sono molto semplici come già detto nulla di innovativo ma neanche di affidabile e collaudato per quanto riguarda le articolazioni diciamo un compitino grave insufficienza l'articolazione dei piedi che non riesce a donare una stabilità a 360 gradi al modello come abbiamo visto basta inclinarlo di qualche grado in più verso dietro che il modello va a finire a terra complice il suo peso insomma quindi diamo un atto a X-Transbot di aver affrontato sicuramente il compito gravoso di portare sul mercato un modello inedito che allo stesso tempo il vantaggio principale per quale acquistarlo aspettiamo ora come saranno gli altri due componenti del trio degli Omnibot e lascio a voi la scelta se acquistarlo oppure no con questo video è tutto Robots GT vi saluta vi invita come sempre ad iscrivervi al canale a spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e vi saluto ciao